Una buffera di gravissime accuse ha travolto l'imprenditore Ravennate Ido Casalboni. Dopo aver vissuto e attraversato il fallimento del Ravenna Calcio e della sua azienda immobiliare, Casalboni, storico e conosciuto personaggio del Ravennate, è stato arrestato lo scorso venerdì sera nella sua residenza. Un'importante accusa grava su di lui, quelli di tentati atti sessuali con una ragazzina di appena 14 anni, ma che all'origine dei fatti avrebbe avuto solo 11 anni. Un'amara scoperta che ha colpito il Ravennate e riempito le prime pagine dei giornali. Il 66enne avrebbe fatto proposte sessuali esplicite alla bambina, che la scorsa estate avrebbe registrato un'intera conversazione, dove lui tentava di comprarla, 3.000 euro in cambio di rapporti sessuali. Dopo la denuncia alla polizia da parte dei genitori della piccola, una delle auto di famiglia sarebbe andata in fiamme. Anche questo avvenimento sarebbe stato ricondotto da intercitazioni telefoniche a Casalboni, che avrebbe chiamato una sua amica dichiarando di voler vendicarsi. Sono perciò diverse le accuse con le quali l'imprenditore dovrà scontrarsi.